Ciao, volevo fare un po' di video, magari ne farò più di qualcuno, riguardanti Unreal Engine perché è un software che, a parte che si sta diffondendo sempre di più, ma è molto interessante per artisti perché si riesce facilmente a creare dei paesaggi dove ci sono dimensioni molto più grandi con molti più oggetti rispetto a quelli che magari si riesce a gestire con Blender in realtà è un motore per videogiochi per cui il suo scopo è creare videogiochi oppure contenuti video ed è anche particolarmente rapido e può contenere moltissimi oggetti con estrema facilità, anche molto complessi si può facilmente popolare un ambiente con molti molti oggetti anche con particolare complessità contiene già tutta una serie di cose comode, per esempio la luce del sole può essere gestita in maniera piuttosto semplice e come vedete tiene conto nel momento in cui si cambia l'ora del giorno di cambiare il colore a seconda del tramonto, del sole alto ci sono anche dei metodi piuttosto rapidi per popolare un terreno, posizionare con una specie di pennello quindi insomma ha diversi vantaggi nella creazione di paesaggi e situazioni anche molto ricche con molti elementi tridimensionali è gratuito quindi potete cercare Unreal Engine e recarvi sul sito e da qui c'è la possibilità di scaricarlo, ci sono le istruzioni, bisogna fare un account dopo averlo installato vi ritrovate con questo launcher bisogna recarsi qui sotto Unreal Engine e nella sezione biblioteca potete installare diverse versioni del motore per esempio qui è installata la 5.2.1 installate la più recente, ci metterà un bel po' tenete conto che con Unreal Engine molte cose occupano diverso spazio su disco quindi preparatevi a dover scaricare diversi giga per poter anche solo fare le prime cose e una volta che l'engine è stato installato lo trovate qui appunto sotto versioni motore e potete premere avvia per farlo partire offre diverse opzioni in partenza sotto Recent Project trovate quelli aperti di recente che potevate trovare anche nel launcher però se non avete fatto niente si parte da zero diciamo e quindi si può scegliere giochi, film, architettura io consiglio di partire con giochi e magari blank per evitare di occupare troppo spazio diciamo di cominciare con la cosa più vuota possibile dovete decidere una cartella dove salvare i vostri progetti e poi bisogna per forza creare un progetto quindi in questo caso bisogna dargli un nome progetto iniziale per esempio e fate crea con le opzioni di default verrà creato un progetto vuoto con dei contenuti diciamo già con un minimo di contenuti già disponibili e infatti potete vedere che quando avete finito vi ritrovate già in questa situazione allora l'interfaccia principale qui dove vedete il vostro ambiente questo elenco è l'elenco degli oggetti sulla scena e questa scena diciamo è già pronta come ci si fa a muovere? la cosa migliore è utilizzare i comandi tipici di un videogioco che sono i tasti WASD bisogna prima premere il tasto destro sulla scena e premendo il tasto destro si riesce a ruotare la testa a quel punto con il W si va in avanti S indietro, A sinistra, D a destra se avete giocato a un videogioco funziona e vi ritrovate potete usare E e Q per alzarvi e abbassarvi se lo trovate troppo veloce qua su c'è una velocità scritta 1 volendo potete abbassare la velocità della camera e adesso si muove più piano c'è un modo più pratico che è mentre avete il tasto destro premuto usate la ruota sul mouse e vedete che il numero cambia da solo quindi potete o impostarlo da qui appunto oppure tasto destro e rotella e cambiare la velocità l'altra cosa importante da imparare subito è che c'è un content drawer quindi un cassetto dei contenuti che è disponibile qua sotto premendo appare diciamo l'elenco delle cose che voi potete aggiungere al vostro progetto quindi potete mettere in scena questo content drawer scompare da solo e ha una scorciatoia da tastiera che è control spazio quindi voi potete premere control spazio e aprirlo se vi dà fastidio quindi dover o cliccare sul tasto o premere sempre control spazio una volta che è aperto potete premere questo tasto dock in layout me ne ha aperto un altro per qualche motivo ma voi potete anche prenderlo e trascinarlo per esempio qui sotto ed ecco qui che adesso questo qui è diciamo fissato nel layout se volete chiuderlo potete premere la X quindi di nuovo content drawer dock in layout e adesso invece per esempio me l'ha fissato qui altrimenti se lo trascinate di nuovo torna a diventare una finestra e potete portarlo in giro e anche eventualmente su un altro monitor quindi che adesso lo riappiccico qui in questo momento siccome il progetto è vuoto qui c'è un minimo di contenuto iniziale quindi vedete starter content ci sono alcune cose in particolare adesso stiamo vedendo una particolare mappa questa qui che è una scena diciamo in Unreal Engine si chiama level quindi qui vedete nell'elenco vedo che questi sono dei level vengono anche chiamate mappe e quindi siccome queste cartelle potete darvi che nome volete spesso i livelli invece che trovarli in una cartella level può essere che se aprite un progetto già fatto da qualcun altro li dobbiate cercare dentro la cartella maps quindi questa appunto è la mappa di partenza starter maps se ci faccio doppio clic ecco che c'è un chiudiamo questa finestra c'è un minimo di contenuto già pronto che possiamo esplorare e quindi potete capire che i vari livelli sono diciamo quelli che magari in Blender potrebbero essere le scene quindi l'intero progetto può contenerne quanti ne volete questa è la starter map quella che vedevamo prima adesso è chiusa vedete questa minimal default contiene altre cose e questa con advanced lighting contiene altri oggetti ancora quindi questo è un minimo di contenuto iniziale diciamo dimostrativo se voi volete farne una vostra appunto potete se qui questa starter content è il contenuto già pronto diciamo voi qui potete crearvi le vostre cartelle quindi dentro content se io faccio tasto destro posso fare new folder e scegliere un nome quindi per esempio miei livelli non potete fare gli spazi quindi potete usare un underscore adesso cliccando qui su miei livelli mi trovo in questa cartella e posso creare un nuovo livello qui viene ricordato dove siamo siamo dentro content miei livelli qui per fare un nuovo livello posso fare tasto destro e scegliere qui la voce level e gli devo dare un nome quindi mappa anche qua niente spazi mappa di prova come vedete c'è scritto che è una cosa di tipo level anche se noi l'abbiamo chiamata mappa e questo asterisco significa che non è stata ancora salvata per aprirla ci faccio doppio clic e infatti mi viene detto vuoi salvarlo? sì è vuota non contiene niente però la devo salvare ugualmente l'asterisco è sparito e qui adesso non c'è assolutamente niente perché è appunto completamente vuota è completamente vuota anche a livello di luci e quindi non posso vedere quello che eventualmente ci metto per avere un minimo di situazione di luce in cui riesco a vedere qualcosa esiste uno strumento qui dentro window c'è questo environment light mixer che ci aiuta a creare gli oggetti di base iniziali con le quali illuminare la scena diciamo di giorno quindi potremmo anche inserirle a mano però siccome esiste questa interfaccia che lo rende un po' più semplice basta andare per ordine quindi create skylight e vedete ha creato sulla scena una skylight create atmospheric light va a creare la luce che è quella del sole non vedo ancora niente perché mi manca anche questo create sky atmosphere ed ecco che vedo finalmente che c'è un cielo se mi muovo posso intuire che c'è un cielo è ancora tutto nero qui sotto posso creare quest'altro le nuvole però prima delle nuvole diciamo che le nuvole sono facoltative però se voi premete create height fog ecco che crea anche una nebbiolina sulla distanza e mi ritrovo in questa situazione già più riconoscibile vedete c'è il sole se faccio anche create volumetric cloud ecco che ho a disposizione anche le nuvole questi oggetti sono tutti stati creati in scena e si trovano qui e quindi ognuno volendo può essere cambiato però adesso che riusciamo a vedere qualcosa notate tra l'altro che adesso ce l'asterisco ho fatto delle modifiche quindi devo eventualmente salvare posso fare o tasto destro qui sopra e scegliere salva oppure vedete ctrl s e salvo quindi adesso su questa scena non ho niente potrei metterci qualcosa a partire da questo starter content se lo apro e vado a cercare per esempio props che significa diciamo oggetti qui ci sono alcuni oggetti e ne vedo un anteprima quindi se volessi portare in scena questa sedia basta che la trascini da qui alla scena ed eccola qua ho la sedia sulla scena ed è illuminata dal sole si trova in una certa posizione e per sapere esattamente dov'è potete vedere le proprietà dell'oggetto quindi tutti questi oggetti quando ci cliccate sopra qua sotto si vedono le proprietà quindi questa sedia che si chiama eccola qui smchair ha una certa location che è espressa in centimetri e quindi si trova in questa posizione nello spazio questa freccina serve ad annullare i valori e riportarli al default quindi se la premo la porta 0 0 0 ed eccola infatti che è qui insieme anche a questi e se ci clicco sopra scopriamo che sono questi altri oggetti la luce del sole le nuvole sono tutti diciamo schiacciati qui e queste sono delle icone che li rappresentano non sono dei veri oggetti infatti se mi sposto l'icona continua a rimanere la stessa non ha uno uno spazio tridimensionale diciamo è solo un disegnino e infatti se io non voglio vedere tutte queste cose diciamo aggiuntive come la griglia e tutte queste iconcine posso sulla scena premere il tasto G di game e scompaiono tutte le informazioni aggiuntive e rimane solo la modalità di gioco o ripremo la G per tornare nella modalità normale oppure se sono nella modalità game cliccando su alcuni di questi oggetti comunque ricominciano ad apparire questi elementi diciamo e oltre a prendere gli oggetti da qui posso anche utilizzare degli oggetti di base con questo tastone qua sopra e serve ad aggiungere qualsiasi cosa diciamo al progetto e per esempio se vado a cercare tra le cose base trovo delle forme per esempio il piano se lo clicco adesso mi ha aggiunto un piano laggiù di nuovo posso annullare la sua posizione e metterlo qui e possiamo vedere che c'è anche una scala e quindi posso allungarlo sui vari lati notate che riappare la freccia per annullarlo se premo questo tasto blocca questi valori a essere tutti uguali e quindi lo scalo e scala diciamo su tutti e tre i valori contemporaneamente notate come la luce è calcolata al volo e quindi quando questo piano è molto piccolo non riflette la luce del sole e la sedia è ancora scura quando invece il piano diventa più grande la sedia comincia a ricevere della luce riflessa da parte del piano e per spostare gli oggetti in scena oltre che usare qui i valori posso usare questa freccia oppure come vedete questo è lo strumento per spostare quindi posso usare le frecce oppure posso premere qui e ruotare e ovviamente posso ruotare anche nelle altre direzioni e questo è quello della scala appunto con il quale posso cambiare la scala degli oggetti le scorciatoie per queste tre funzioni sono W per il movimento E che è il tasto a fianco per la rotazione ed R per la scala quindi sono i tre bottoni vicino W e R notate appunto che l'illuminazione è già immediatamente se l'abbiamo creata appunto con il metodo mostrato prima per creare una luce del sole eccetera è già realistica e quindi i riflessi di questo piano sono immediatamente visibili su questa sedia mi fermo qui in questo primo video è il minimo indispensabile per cominciare a muoversi grazie e alla prossima